Siamo al Mudek Photo di Milano dove abbiamo allestito la retrospettiva di una grande artista italiana, Tina Modotti, attiva negli anni venti in Messico. Tina Modotti ha lasciato una traccia indelebile nella storia della fotografia e questa mostra è una mostra importante perché ripercorre tutti i vari capitoli di questo suo impegno e della sua capacità di utilizzare il mezzo fotografico anche come sensibilizzazione delle coscienze e come strumento sociale. La mostra ha più di 100 immagini, sono immagini vintage degli anni 70 tirate direttamente dai negativi di Tina che erano stati messe a disposizione da Vittorio Vidali, il suo ultimo compagno. La mostra è completata da documenti originali della famiglia Modotti e da una meravigliosa poesia che le fu dedicata da Pablo Neruda.